I Los Angeles Lakers si campioni del mondo a quota 20 vittorie, 23 sconfitte contro il Sacramento Kings 33-14, si butta indietro, prende stavolta un tiro bruttino a perfezionare il recupero della palla è Sacramento volata per Gerard Wallace, Wallace inventa il passo di incremento Damon Jones in capo con la maglia numero 9, dentro per Clark Clark potrebbe partire uno contro uno, pesca il taglio di Wallace Stoppata di George che è molto attivo, ma più attivo di lui è Wallace Non vincete mai al ristorante Shanterelli Sacramento, altro che hamburger avariato, questa è la verità Oh a proposito, lasciate per me questa storia, per il momento c'è responsabilità e sbaglia un tiro Puccogo lo diamo via l'anno prossimo Ma a me non dispiace, anche qua ha dato una discreta pallettina, mi raccomando a questo qua Samza di tutti è sicuramente Samaki Walker E queste cose le vedete, se volete, non è la N, B, A, S, grandiosa palla di Turco Ovviamente è un fuoriclasse Guardatelo come conduce il contropiede, gioca da due, gioca da tre, gioca da quattro E adesso il ritmo è quello dei Sacramento Kings A questo Stotele del grande Aristotele, cioè Stanley Roberts, l'uomo che secondo Shaq mi ha spiegato tutto di questo gioco Hanno nel tiro da tre la prima opzione di una transizione, se non è un controllo Arriva il tiro da tre, oh qui intanto è arrivato lo sviluppo Che grande posizione, il tiro è del Shaquille O'Neill, è andato forte, Shaq fa zero Wallace, Jones, Jackson, questi in condizioni normali Noi prendiamo, anzi vogliamo vedere il risultato Ricezione di Jimmy Jackson, bella palla schiacciata per terra per Wallace Che va a un'altezza pro, o meno traducete in euro, è la stessa cosa Una classifica chiusa dai Il Cesena vale più di 500 miliardi delle vecchie live Una logica americana è il paragonale